ciao a tutti buonasera 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 a tutti come va aspettiamo a qualcuno si colleghi io intanto mi metto la mia live ciao gerry benvenuto benvenuto ciao a tutti questa sera non è qui con noi nonno massimo che ci seguirà sicuramente da casa buonasera stefan beden buonasera a tutti buonasera a tutti andrea pavanetto ciao ciao luca al fieri vediamo se riesco a controllare come ci si sente guarda la quanti siamo gerry dice buonasera eccoci ho levato l'audio lo metto lì così mi guardo in diretta sperando che oggi mi basti la batteria adesso di sì vediamo questo scanner perché se no non mi vedo perfetto siamo soli soletti non sono più abituati ci manca nonno massimo davvero ecco nonno massimo ci saluta ciao oggi tu ci hai ringrappato è qui è affari non veramente stasera quindi salutiamo angelo vitale francesco russo benvenuti stasera che non c'è nonno massimo abbiamo montato la luce aggiuntiva per la diretta stasera massimo ha messo la tabla la nouvelle lumière per fare la diretta ciao andrea lanai a buonasera si è messo una nuova luce insomma vediamo se se piace di più l'illuminazione se fateci sapere se cambia un po' di pascal tupinier buon suor insomma fai vedere un po' il banco no cioè se si è fatto un sacco un po' di candorini so this evening a new a new lamp on the table so to make more light for the live and now massimo is doing some air tubes ciao ciao christian ciao giovanni massimo è in train di realisare le tube per le camion le noire sto facendo quelli neri sono 20 giri 21 giri per l'esattezza 21 fois le tour delle guille per realisare le tube dell'air buon suor a la trouvet 7 18 ora ne faccio male 18 19 20 e 21 dice dopo qualche giorno nero per me dice sono contento di ritrovarvi dice le trouvet ah mi dispiace vero spero tutto bene spero stasera fa la calza dice nonno massimo sì è vero stasera fa la calza non sapevo che non venivo e quindi volevo prendere la copertina e mettermi davanti alla televisione la televisione ce l'ho e fare la calza sì 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 è vero è vero allora nulla mentre aspettavo un po' di gente si collegasse faccio un po' di tubi perché un rifaro a farli che me li comprano e quindi il capo gerry e mi schiavizza un po' qui capito? quanto è lungo il filo? da 0 a 21 suppongo 21 cm 21 cm e 21 giri 21 giri vedi? 21 giri e 3 Thirda The Seconda Tutto Il Il systems Il vedi della Ghia David Usch ci saluta, buonasera David 9, 20 Flexible mi suggerisce Merci Leo Flexible non si ricorda la Letizia c'è altre volte che avevate detto che si chiamava Flexible ma mi piace quando mi suggeriscono le cose è giusto, io dimentico e qual è il progetto di stasera? vediamo andiamo un po' a vedere a bracare fare subito tutta la sera ah ok che saranno il progetto di stasera? per far contenti gli scanisti c'è un nuovo scan qual è? quello rosso? quello bianco? oppure quello argento? qua l'argento 12 e 15 ora mi fa perdere i conti ciao ciao Costin Damian e 21 poi dopo c'è da fare la fase seconda che è quella di o metterci il tappo il manicotto il distributore oppure intuffarli nel colore ma non si fa ora no è troppo difficile è troppo piccino non riesco a impadrarlo Giovanni Mazzarella benvenuto Kurt Mischulnig difficilissimo è abbastanza ciao Ennio Moretto si saluta Ennio Moretto ciao Ennio allora mentre noi eravamo a Inveggio si si è svolta la qua è da completare quello che si deve fare stasera l'avete riconosciuto? si è svolta a Verona si e tutti sono rimasti contenti qualcuno c'era a Verona qualcuno c'era c'era la Naya c'era Moretto ci raccontano perché noi eravamo in Belgio e ci siamo divertiti comunque anche in Belgio era importante c'era un sacco di gente che sono venuto a trovarci però tutti hanno è stata una bella fiera Verona parlatecene giusto? giusto convinceteci a andare è vero in Belgio quindi non c'eravamo non c'eravamo e mi farebbe piacere qualcuno raccontasse cosa c'era di bello se era come le ultime volte siamo stati se è cambiata se ci sono delle novità insomma qualcosa no? io intanto faccio vedere anche indietro Olivier Floch dice buonasera dalla Bretagna molto carino questo silver griffin merci Olivier colore originale scania questo sono orgoglioso ma è il colore Arctic silver proprio quello originale per il silver griffin la couleur è la couleur originale del scania silver griffin questo è il numero il numero difficilissimo vabbè basta inquadrarlo 5 5 va bene 5 6 9 4 2 scania Arctic silver Arctic silver bravissimo sta migliorando a vista d'occhio per Castellespot certo quindi praticamente rimane a fare la parte di là io ho messo già il telaio tutta la parte interna manca solo guarda se lo metti se non lo metto così si vede meglio o inclinato così perfetto quindi manca l'estintore ancora non so bene dove lo metto perché mi piace talmente tanto dietro che mi sembrava di scioparlo buon so buon soire a Jerome Delamare e a Patrick Domergue benvenuto buon soire e poi niente quindi poi alla fine ci sono i tubi quelli neri io ormai ho preso questa fissa neri con il tubino colorato con il blu basso con il blu basso con il blu rosso addirittura messi piegati attaccati al suo telaghetto giallo rosso blu blu massimo ha realizzato tutto noire flexibile e il ha peinti le extremità in jaun rouge giallo rosso e blu e blu il blu le gran blu massimo ha realizzato il silver griffin con l'originale color di Scania arctic blue from le peti matto e la he realized the air tube in black with with the the extremità eh come si dirà se with the dot of red yellow and blue to recognize the different kind of tubes xavier nieto rodriguez benvenido jerry qui c'è il capo perde colpi a vista d'occhio allora quindi manca il nostro silver griffin la nostra lo prendo e lo metto sul tappetino modo tale che sia comodo comodo come se dormisse lo metto anche leggermente inclinato e mi sono una sciccheria e mi sono reso conto che c'è una ditata sul vetro e noi andremo a levarla come i gioiellieri non se ne va e quindi sarà dall'interno ma se ne è andata ormai ci siamo facciamo anche tutti i vetri così siamo a posto di qua di qua no perfetto non rimettono il suo cuscino come se si addormentasse beh a te dice metti lo specchietto che specchietto metti lo specchietto si ora fa fenomeno fa a proposito lui mi deve riportare ancora un modello io ti tengo in ostaggio all'idea te lo dico allora intanto leggo l'articolo 5 del codice del capo recita l'operaio va schiamizzato oh ma questo ciao Nicola Fazzolari benvenuto ciao Nicola Gerry mi fai morire io siamo sindacati te lo dico all'Eutrouvet scrive su un camion ci sono cinque flessibili uno nero per le luci obbligatorie lo stop le posizioni le 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 frecce e quelle le luci per la nebbia un altro nero per le luci annesse quindi retromarcia un cavo ABS ISP anti anti reinversamento sarà l'antipatinamento il flessibile d'aria rosso per assicurare l'alimentazione permanente dell'aria a rimorchio e il giallo che assicura il freno di servizio quando si pigia sul pedale è vero però io non ce ne posso mettere cinque perché l'ambiente 187 è un po' piccino quindi si fa con quattro e sono più che sufficienti grazie leo per tutte le informazioni se non è possibile le mettere sulle cinque aspetta si oh l'ho messo troppo alto si 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 dubbiamente scusami lo giro velocemente perché se mi fa adesione posso andare hai messo la goccia ho messo tante le gocce ti preoccupare le gocce io le metto quasi sempre quasi sempre allora o come mai ce l'ho ecco ecco un pochino più qua via mi tocca muoverla con la punta eccolo là le ha posto eh che ne dite ottimo eh lo so sono forte nel montare le idee sono veramente forte quindi eh la penultima volta abbiamo fatto comunque due leggende direi che si può dire due leggende due la tizia è andata via sì no un occhio piccino il liquido volevo rispondere volevo rispondere a eh a l'autorovee ma non trovo il tasto e quindi cosa ne vuoi dire voglio ringraziare Nicola dice buona sera a tutti tutti voi sempre top grazie Nicola grazie Nicola allora Ennio Moretto dice quest'anno il Model Expo è stato bellissimo il 20% visitatori in più del 2023 io non c'ero l'anno scorso per il problema di salute ma nel mio stand erano anni che non vedevo così tanti appassionati bene questo è bene perché ultimamente ciao a Stefano Marchetti che ci saluta ultimamente purtroppo in Italia erano un po' calati gli afflussi di persone bene questa cosa è positiva Leo Trovedici ha fatto due torpedo con la livra a Silver Griffin si l'ho visto bellissimo tra l'altro bisognerebbe qualcuno che mettessi anche sulla decad di Maxwell che qualcuno chi ti vorrei ma Leo Leo Trovedici per mettere le foto del torpedo si da le gruppe delle decad di Max Modell sarà trebole le voir là Olivier Richter bienvenu David Uschi dice bellissimo grazie grazie quindi anche Massimo Becattini dice bello e Gerry Gerry ha detto il capo ti ha insegnato bene ad attaccare le decad grande Gerry fa anche tremolare l'inquadratura Gerry ufficialmente ora non sei più mio amico ma comunque dopo lui sarà accanto al performance performance edition giusto sì giusto e siccome ne esistono diversi tipi del performance edition esiste il Norwegian e l'altro il suo fratello gemello però il color grigio ho intenzione di farli tutti perché come sapete il Volvo comunque mi ha preso il cuore avendoci fatto le missioni in croce rossa anche se il mio camion preferito rimane sempre il man è quello che devo fare un po' cicocolato tu sei no questo è un camion che comunque il Volvo il volvone insomma nel senso la passione croce rossa mi da questa passione però per guidare io preferisco il man e purtroppo se il croce rossa mi compra man e io che devo fare guido che c'è come tutti fanno quando hanno le ditte insomma giusto si mi fa per tu per le le Volvo ma anche le Scania e soprattutto le MAN adesso cosa cosa e quindi mi serve il telefono mi ricolleggo un po' che intanto parla io devo dare una foto ok Massimo va a cercare una foto pendant che lei è in train di terminare la decorazione di Silver Griffin ciao a Tony Silva benvenuto Tony Silva ciao Tony allora e questo la parte sotto del Silver è un miscuglio di colori non è la parte sotto si intende la minigonna la parte davanti la parte scura perché non è un nero a tutti gli effetti quello originale non è di color nero ma è un grigio scuro sarebbe un grigio color plastica sai che cosa ti dico ma lucido quindi è molto particolare perché non è un grigio plastica un po' opaco quindi dopo un po' diventa si schiarisce invece questo qui è molto lucido è molto molto bello è particolare quindi per riuscire a fare una cosa del genere sono dovuto andare a mescolare un po' di colori un po' di tamia con il nero insomma ho fatto un colore io e alla fine quando mi è piaciuto la ciao Marco Solzi quando sono arrivato alla giusta tonalità l'ho messo nell'aerografo e ho sbruzzato quindi se ne dovessi fare un altro avrei qualche problema perché ho contato le gocce ma non è così facile non hai segnato quante gocce erano no no non ho segnato però quando vai a gocce la goccia è molto relativa se è leggermente più grossa ti viene un pochino più scuro un po' più chiaro quindi non sarà facile non sarà facile ecco i silver griffin allora volevo vedere i silver griffin se tu puoi inquadrare si inquadra anche ero rimasto affascinato da questo non si vede molto bene perché è scuro i tre assi volevo fare un tre assi questo che comunque è un gran bel mezzo però 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 poi i tre assi ne ho poi e quindi sono andato appare ah ecco pensavo di aver sbagliato a volte ci succede di aver sbagliato la versione invece no il griffin è da quest'altra parte sono è fatto così cioè è sempre messo a questa posizione questo è il davanti nella foto come? nella foto parlo del laterale ah ok ok vedi il griffin è laterale qui così ok mentre dall'altra parte è sempre così laterale è davanti non lo vedo se no lo sbaglio all'altro ah 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 ma no vedi il griffin è un po' fuori fuori si ma si vede come si vede va bene va bene andiamo avanti rimetto intanto sbircio nel telefono del capo si è scritto qualche cosa un po' carino che mi ha confronti guarda quanto scrivono questi ragazzi oggi bene bene bravi 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 nonno massimo come stai nipote salutaci nipote giusto? si ma sono levato la foto troppo presto da me no è là in fondo in che senso? devi metterlo qui in fondo appoggiato? si mi sei certa? mmm appoggiato dalla parte in fondo come puoi a fare le cose approssimate? secondo te che sono un tipo le cose approssimate? guarda deve arrivare prima della riga perfetto ora ce l'ho più chiaro io ma te che tu mi traduci a che cosa allo stasera ti vedo un po' biglillone eh? si? no sto cercando di leggere con difficoltà i commenti scritti da più piccino si è meglio tu sai che tu ci vedi meglio? dorme dice i becattini dorme ah allora allora facciamo piano intanto ieri mi sono sentito con Kerry che stasera non l'ho visto può essere no ancora non sempre e mi ha trovato non ne conoscevo io l'esistenza un uno Scania Mondial un 143 che cos'è? è una versione che ancora non ho scoperto da dove viene Scania Mondial Scania Mondial Scania Mondial che è le solite 143 simili con le solite righine però nere e rosa che li fa la fascia tutta intorno qui le righe rosa sono più spesse delle righe nere sulla cabina è bianca con metà nella sportella ho scritto Mondial con un fonte un po' particolare ed è una versione una limited edition come sicuramente dell'Alta Europa ok Massimo ha parlato con Kevin e Kevin lui ha mostrato una foto di Scania Mondial un 143 che Massimo non aveva mai vue e il è in train di studiare questa decora di Scania Mondial è una versione di Scania Mondiale di Scania Mondiale di Scania Mondiale di Scania Mondiale 143 che Massimo non aveva mai visto e ora studia questo design nessuno si accorta un po' per il suo l'idea c'è un po' ahahah non ricordo se Leo Pascal Sarazin benvenuto ciao Pascal non ricordo se Leo ci sarà a Castellespot di solito si dipende dal lavoro eh sì certo cosa vuole bisogna no perché nonno Massimo era quasi convinto a venire bisogna che se qualcuno lo incita non può ce lo portiamo noi on è in train di convaincre nonno Massimo a a a a la fin d'ao a 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 intanto ciao Pietro Capelli intanto ciao Pietro anche se ovviamente molto molto fine però tutto intorno alla parte nera c'è un cordoncino rosso che ovviamente non è facilissimo mettere però si mette perché qui c'è un mago del deroghe certo ti ho insegnato bene come dice Gerry direbbe tutti due mettere queste le tutte due sai Massimo è in train di posizionare le fil rouge autour della fenêtre latérale c'è troppo fin ma è possibile posizionare per complicar l'adequazione stefane ha detto che pagherebbe una birra una piccola birra nonno massimo a castell'expo grande stefane nonno massimo ti aspetto una birra a castell'expo non puoi dire di no qui ragazzi si fa diventare un anno massimo international international come si chiama l'ora io so è un influencer un influencer l'influencer del mondo 187 è richiesta a me non mi richiede a mia così tanto tanto spesso ma la birra te l'hanno offerta anche a te a castell'expo no la birra si anzi bisogna stare attenti perché sennò te ne offrerò troppo è un po' un cpa di firenze sud e forse due se è saggio dice nonno massimo è sempre saggio è il saggio di gruppo genio è l'impertinente nonno massimo è il saggio leo truvè fa una battuta dice il filo rosso sul bottone rosso il filo verde sul bottone verde la settima compagnia se voi conoscete quindi penso sia una qualcosa di un film di un libro può essere non lo so la settima compagnia filo rosso si forse un film però può darsi non vorrei fare scusate ma bisogna mettere un occhio bionico a vedere l'unione delle due righe giudizio 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 rosero navarro mi fa una domanda ma in spagnolo non lo so non capisco allora eric baumer welcome ciao cristian biondo benvenuto allora come avete visto la parte la righina che non è di facile montaggio per nessuno ovviamente è stata divisa perché tutta intera sarebbe stata ancora più complicata e ovviamente essendo molto fine mi devo mettere gli occhiali per far sì che la unisca perché se no se si vede anche la riga è torta insomma a me non è che faccia impazzire e quindi cerco di fare il massimo poi farai una bella foto e metterai perché da qui il filino rosso si gusta poco diciamo perché non mi fai un primo piano eh sì ho capito che fai il primo piano ma in senso c'è un limite anche a a questa senti Jerry cosa sta dicendo eh c'è un limite a questa bisogna comprare la telecamera nuova vedi quando anche il capo si rende conto dei limiti della della macchina cioè esageri fai delle micro decalti esagero vedrai se nella scala nostra ora esagero ah e troppo all'1 a 14 sei più contenta se fai l'1 a 14 posso fare Eric Baumer ciao Eric dove sei c'è qua bisogna veda guardate lo so che per te magari in questo momento non è comodo ma io se non vedo qui le cose si fanno piccole già anche a vedere non è che sia così facile è sempre più difficile di più in più ma Simo vuoi le decorre con i fili ruggi molto fin è più difficile per me di è difficile per te non posso per me di attaccare ma guarda è sempre lei che aveva di fronte lei non capisce non si può spendere chi l'è questo chi l'ha detto non si può spendere te non capisci non si può spendere in questo momento perché l'ora in questo momento che c'è perché è il momento che si può spendere non è mai il momento non è mai il momento perché è vero che bisogna stare attenti io non sono un amante dei fari però secondo me sull'R ci sta molto bene perché ne evidenzia la mascherina e infatti è l'unico diciamo dove lo metto volentieri sempre se riesco ci vorrebbe quattro mani ci vorrebbero le mani di capo anche è capo impegnato a fare chi a fare le riprese le splendide riprese massimo usually don't use the decays for the lights but he thinks that for he thinks that for the scanner the lights the decays for the lights will highlight the shape sì perché ok merci josé antonio rosero navarro che dice come fate aspetta mi scrive in francese perché io in spagnolo non capivo dice come fate per tagliare le decay giusto le linee senza la parte trasparente intorno ora ve lo faccio vedere sì ve lo faccio vedere rosé antonio massimo vuoi dimontrare come fare il ha una tecnica che può essere utile on va le montrè perché io non amo molte fagli ecco l'altra volta ha condiviso il suo torpedo merci leo molto bene mi piace allora perché diciamo io non amo mettere le decay perché i nuovi erpa diciamo il volvo fh4 della nuova generazione già vedi li facevano sotto con dentro praticamente il faro ma perché lo metti all'ombra chi quello blu ah ecco meglio così sì ma lo metti sempre piegato vai così mi sembrava all'ombra qui non ce l'avevo l'ombra rispetto ai vecchi fari che erano molto semplici cioè nel senso erano trasparenti addirittura se andiamo ancora più indietro nel tempo erano addirittura di qui ora questo qui ha messo le decay ok addirittura erano dipinti quindi prima generazione di fari dipinti poi trasparenti e poi hanno fatto l'ultima generazione con il sotto tipologia di fari si vede sotto no dove aspetta 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 mi stava rascando il sotto dei fari si vede praticamente la suddivisione come sono mentre nei primi modelli ovviamente no quindi io siccome a me piacciono molti fari di goccia a dratti il ha la la differente tipologia di fe che erpa ha utilizzato sulle maquette è sempre più più dettagli ma per le primi se ho le decale è meglio dico bene? giusto non so che ti ha detto ma va bene mi fido è toujours si ancora vuoi fare so you can see here the different kind of lights in the erpa models from left to right the oldest are on the left and then towards the right you can see the different kind of realisation and the modern one are with all the details so Massimo don't like to put the decals on the last one but he finds that on Scania R the decals for the lights are good and they enhance the details of the model jerry dice sottili come le decal rosse intorno alla calandra del mercedes sottili e curve su curve quelle che hanno la stella mercedes sul fianco sì sì quelle sono fini fini è vero fini 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 si hai sentito olpido nell'orgoglio bene è tutta la sera tu mi pigli in giro ok quindi su questi li monto volentieri come su questo questo è lo stesso modello ho realizzato i fari e l'F2000 li aveva fatti così all'interno e quindi ho diciamo migliorato la prima versione dei fari mettendoci la decal mettendoci la decal so on the right there is the decal on the lights and on the left there is the helper model without the decal on the lights you can see the difference en apposant la decal sur le feu on peut voir la difference entre la maquette che è una palla decal e l'autre ok comunque io nel senso le metto sempre anche per i modelli nuovi perché se qualcuno piace non è giustamente le mette ora bisogna far vedere il capo mi ha spiegato bene come attaccare le Deas dice Jerry tu lo farai impazzire Massimo che è qui che si strappa i capelli non ricordo più perché Jerry mi fai nervosire come si chiamava chi mi ha chiesto Navarro Navarro aspetta ora te lo dico José Antonio Rosero Navarro allora innanzitutto facciamo la tecna del doppio faglio per posare le decalque sul trasparente di Zalantour e voici Massimo che va a fare una dimostrazione prossimamente sui vostri schermi no prossimamente stiamo realizzando il francese il double cut cioè il flayer del double cut in più lingua anche in tedesco ci giochiamo anche l'olandese e poi l'italiano perché giustamente fino ad oggi l'italiano non c'era e poi sono tutte le rive quindi sorpresona la prossima fiera dovete venire per forza o dovete sennò per forza ordinare a noi perché così si mette il flayer ora non subito non domani cioè ordinate anche domani ma riordinate anche tra 15 giorni se faccio stamani quindi sono a stampare dalle nuovet delle prossime settimane il ha sì la brochure delle informazioni su le double decoup anche in francese in alemane anche in hollandaise e sì l'oggetto allora maintenant Massimo vuoi fare la dimostrazione della tecnica di double decoup prenderò questo dove c'è una piccola riga quindi prima uno va a fare un piccolo taglio con un catterino con la lama nuova che taglia tantissimo pericolosissimo va a fare un premier decoup con un catterino che è molto affilato e andrà a fare un taglio non premendo tanto la decoup sarà non troppo pressione ma leggera più o meno vicino a me piace molto vicino molto molto vicino del dessin alla linea rossa percorrendola tutta al suo interno suivando la linea all'interno poi andrò dalla parte esterna poi dalla parte esterriere sempre molto 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 leggero perché tanto il catterino taglia tantissimo è sempre vicino anche dall'altra parte trattare il voisin del dessin ma non con troppo pressione è necessario solo decoupare il film plastico e non il papir al dessù perfetto adesso mettiamo che questo pezzo fosse qui io andrei a ritagliare con un altro cutter che ha la lama meno affilata o le forbici lo andrei a ritagliare lontano dai bordi quindi grossolanamente una volta ritagliato lo andrei a ritagliare decoupage è tre on può fare un altro cutter passi neuf o si con le forbici che in questo momento non mi viene il nome francese no il cutter e il taglierino queste si queste in inglese si ha capito si 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 e poi on va le mettere sull'eponge con l'eau come l'acqua temperatura ambiente la temperatura dell'eau non chaude ma temperatura ambiance vuol dire alcuni secondi facciamo bagnare tutta l'alberto e qualche seconde on va attendre e poi aspetta d'essay qui si vado a ripulire le parti che non mi interessano avec le penso on va a prendre le le film transparant che ne serve pas che è all'exerire della decale ecco ora questo l'ho tagliato un pochino proprio ecco la vado a tagliare all'eliminare si elimino anche l'altra parte e voilà la deuxième partì il resto è la line non so aspetta perché dove sei non so come fare qui la metto qui no basta ti metti fermo si ma va bene basta ti metta fermo si si vede leggermente la decale che massimo ha decoupé e il resto solo la linea rouge è un bello appoggié su la maquette ciao Alessandro Cavallini intanto salutiamo anche Marcello Cataldi ciao Eric Heider ok ok ovviamente bisogna avere gli occhi buoni che io non ho la mano ferma e ovviamente tanta pazienza che se vuoi fare veloci diventa un problema José Antonio j'espère che la dimostrazione riuscì tu hai compri la migliore tecnica per decoupare le decale e per non avere la parte trasparente in excès per ragioni di tempo io di solito il primo taglio lo faccio prima perché sennò diventa noioso vedere di tagliare tutta la cosa però quando me lo chiedete lo faccio certo perché riguardi male che ho detto di male ho detto non so ovvio comunque va bene cioè ora dì anche le cose ovvio ma a volte le cose come tu mi hai sempre detto te per tutti non è ovvio ma cosa ci dà io non so ci dà sono tranquillo José Antonio dice grazie mille grazie a José Antonio tecnici va decidere la parte che è in excez e il resto è solo l'excez del film che non serve e come il resto è solo la decalc ok oppa è rimasto tocca poi lo prendo sotto io ci metto il nostro liquido ecco che ora mi è andato via una goccia del nostro liquido oppure ci si può mettere anche una goccina d'acqua non è una un po' mettere un goccio d'eau o di liquido da supplissant per meglio posare la decorazione perché serve sia per ammorbidire dopo ma anche per spostarlo senza faccia l'effetto ventosa le gutte d'eau o da supplissant serve per posizionare la decalc e senza che si fixe istantaneamente la maquette ciao roberto pieroni benvenuto bruno dice penso che un giorno sarò abbastanza forte come il capo anche lui ora ci si 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 ah dice stefan beden dice letizia bisogna dire che le lame per tagliare sono in vendita sul sito merci stefan c'è vero le lame sono preoccupate o un po le trover su su not sit max model è vero anche di che st rientri che rientri che ce consegnino voglio ormai finirlo insieme a voi vi faccio fare un po' più tardi stasera perché comunque volevo farvi vedere un'altra cosa prima di andare a letto quindi non cominciare a scarpitare non è massimo non è massimo qui mi fanno fare gli straordinari degli straordinari adesso cosa adesso metto la l'h della potenza e il vuoto eccoci sei sparito sono sparito ma io due mani ho e ho tu adesso non riesco a tenere ferma la def voilà questa è veramente piccola non è tanto è piccola è che comunque anche la superficie sotto è molto leggera e quindi mi rimane attaccata alla battaglia da prendere le chiavi su persona c'è che qui adesso la metto sta dritto peccatini dice caro amico mio sono rimasto l'ultimo a difenderti davvero e tu fa bene perché altrimenti non ti ho più l'idea già Jerry se ne giocate non ti preoccupare no no non ti preoccupare ecco fatto no questo ho quello l'ho messo ho messo tutto questo è quello che abbiamo messo no questa è quella che ho già messo io no cosa c'è cosa c'è quella che ho messo quella a sinistra l'ho messo talmente bene hai messo il lato destro che ho messo ho messo questo il lato destro Jerry dice adesso ti chiederà di spendere perché vuole la terza mano è scarmatissimo io non ho più parole per definire la diarmi non vale più niente è fermissima cioè è passimo e senza parole sono senza parole davvero un colpo passimo se io non me l'aspettavo allora come ultima cosa prima di andare a dormire l'avevamo già visto però è completato anche questo l'avete visto girare sui social e una cosa che ho aggiunto sono le fibbie che io solito non so come si dice nelle altre lingue i ganci puoi dire quello che vuoi tanto non ti dice mai nulla nessuno anzi faglielo dire al tuo amichetto nuovo Jerry come si dice nelle altre lingue ciao Silvia ciao Silvia Gori benvenuta e sono in rilievo non so se vuoi dimmi come te le posso mettere forse così si vede che sono in rilievo un po' di traverso un po' così ancora no inclina un po' così o dall'altra parte sì così va bene e toccando che si sente ma voi non lo potete toccare e ovviamente sono Massimo Beatty dice Jerry meno male ci pensa il capo a mandarci le terre e che vuoi oggi stavo per stampare e fanno morire e fanno morbido me però a me è bello proprio quello lo so lo direi così e il 3D quindi in rilievo è praticamente da questo senso di ancora più in realtà perché comunque le fibbie se si chiamano così o i ganci del semi rimorchio sono sono in rilievo bello rimorchio però dice Massimo Beatty però questo mi sembra tu lo dici sa che in francese perché sa c'è la rimorca che vous avez vu su Facebook ossì il y a le set dettagli che sono 3D e Massimo ha posizioné un per un avec della coll per modellismo e sa senta un rilievo sa c'è una particolarità che si può trovare anche un vente sulle sit so these are the hooks that Massimo put on tarpaulin to have more reality so these are 3D details and you can find also on the website ciao michela del pero bello si il semi rimorchio dice gerry ma tanto mi interessa più di a bello come stai andando però questo potrebbe essere un'idea per un aggaccio potrebbe vediamo vediamo se riesco a concentrare il buco intanto ci sono le decal fresche che altro c'è il telaio che comunque ecco l'idea voilà questo è un bel potrebbe essere reale perché la DF DS ha camion propri sono blu come questo e di solito ha polvo però spesso vengono noleggiati oppure usati padroncini per fare trasporti Bruno Leggeant dice superclass perattina ha detto io mi diverto più dal vivo ha detto e tu sei venuto però welcome to Roger Steinbergen Gael Prigent welcome mi piace però la verità ci sta bene ok Massimo è contento Massimo è très satisfetto di cette realizzazione anche perché questo è una limited edition olandese quale la Sylvie Giffin è uscito cioè da noi in Italia è veramente raro ora a parte cominciare i suoi anni vabbè all'epoca però però è sempre stato rarissimo da noi mentre io quando siamo andati più di una volta a lavoro in Olanda li ho visti girare nelle autostrade lì da noi è un pochino più forse raro forse qualcuno l'ha fatto ma non è originale ne hanno fatti cento forse anche me lo so Jerry forse questo lo sta è un pochino per le marchio hollandese dice devo dare buonanotte dice Massimo Pecattini aspetta cinque minuti e poi si va quindi aveva fatto vedere un nuovo modello abbiamo testato un altro colore direi ottimo colore bellissimo cioè ma è proprio bello quello dello scaga con il colore quindi non è un argento classico ma è veramente infatti si chiama Arctic perché è ancora più chiaro quindi veramente veramente bello metallizzato ma è un metallizzato finissimo quindi su un modello così piccolo non si vede la grana e quindi è perfetto perché sennò a volte quando si vede la grana cosa devo fare si vede la grana è un po' sembra fuori scala però se vuoi ripeterlo in qualche lingua io mi fermo un'altra Massimo è molto contento della colore Arctic Blue Arctic Silver Scan Arctic Silver perché è un argento che è molto brillante e molto fin e la posa con facilità e è molto contento del risultato quindi Massimo usò questo Scania Arctic Silver per paint la cabina di Silver Griffin e è molto felice risultato perché il colore è molto fin e molto brillante e luce è molto felice è molto poi abbiamo parlato dei fari Erpa dai primi nati alle ultime versioni e poi abbiamo visto le diverse versioni di fare dell'Erpa abbiamo fatto vedere la tecchina a doppio taglio che io non mi staccherò mai per far vedere essendo orgoglioso io di averla creata e infine abbiamo fatto vedere un semirimorchio con accessori 3D anche davanti ovviamente ci sono le nostre c'è il porta estintori il porta documenti insomma non manca niente io anche di questo rimorchio sono molto soddisfatto è in ombra quindi non si vede nulla davanti te lo volevo dire ecco perfetto sui dettagli ossissimo con la parte set parti sì ecco oddio è avuto un incidente va bene quindi cos'altro dire se non se non che non ha massimo no aspetta dobbiamo dare l'altro appuntamento che sconfineremo nel mese di aprile faremo passare se non sbaglio oddio non mi ricordo quando c'è il contest se questa settimana o la prossima molto panico devo guardare sarà questa eh secondo me no è il 4 lo devo subito 4-7 ci sarà il contest e noi ci rivediamo il 9 aprile il 9 aprile ok allora intanto Massimo la realizzé so même avec ses mains con questo avec ça de evergreen limato di là da tutte quattro morceau comme ça en utilisant ça limando bene e quindi ora dovrei dire buonanotte a tutti allora jeudi jeudi della semaine prochaine le 4 avril il yora le contest sur facebook n'oubliez pas de participer avec le foto de votre maquette et on se voit mardi 9 avril ici pour la direct so don't forget that Thursday the the 4th of April we'll start the the contest and don't forget to post also the photos of your models and 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 then we'll see here in two weeks Tuesday the 7 no la diretta one day 9 the 9th of April we will be here in the live again so buona Pasqua a tutti very happy Easter to you all so buon Pac ah non lo so io prezzi si 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 pac 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 e niente alla prossima volta e ci vediamo tra due settimane ciao a tutti ciao au revoir ciao ciao bye 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 bye